Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che in realtà purtroppo è un video semplicemente informativo perché non ho visto la partita tra Amicizia Lagaccio e Juventus non ho letto nessuna diretta testuale, purtroppo non c'è stata nessuna notizia da nessuna parte so che la partita è appena finita ringrazio, a proposito saluto tutti gli amici di JWS Juventus Women Supporter il gruppo con la quale collaboro e ovviamente andatevi a iscrivere se siete tifosi della Juve e seguite e amate soprattutto il calcio femminile o se non siete tifosi della Juve ma amate il calcio femminile è uguale perché è un gruppo molto aperto ad altre tifoserie ecco dicevamo, ringrazio Filippo Lugo perché il presidente mi ha dato risultato perché altrimenti non si sapeva da nessuna parte il risultato è finito a 2-11 per la Juventus che vince anche a Chiavari e si qualifica per le semifinali quindi sono un po' innervosito per questa cosa perché francamente credo che una diretta testuale non costi nulla e occupi poco tempo perlomeno a fine primo tempo e a fine partita metti il parziale invece non è stato messo niente sicuramente su Twitter stasera verrà fuori il suo sito della Juve però sul Twitter della Juve però insomma ecco diciamo che manca questa cosa dunque possiamo dire anche se è informativo che la Juventus ha vinto 2-11 non solo le marcatrici lo scopriremo più avanti affronterà in semifinale anche esse andate e ritorno o Verona o AGSM Verona o Inter femminile che non è l'Inter Football Club una società che si chiama Inter ma non ha nulla a che vedere con l'Inter Football Club e dunque adesso possiamo dirlo possiamo dirlo che la primavera maschile, la primavera femminile l'Under 17, l'Under 16 e l'Under 15 sono in semifinale 5 semifinaliste ai campionati italiani nei vari settori giovanili quindi un successo per lo Juventus Youth Sector e adesso vediamo come va a finire insomma anche se teoricamente c'è ancora l'Under 15 femminile che potrebbe arrivare alle semifinali ma quello è già molto più lungo come torneo quindi è lontano la cosa diciamo che per il settore giovanile in questo momento le cose che saltano all'occhio è che Juventus, primavera femminile Under 17, Under 16 e Under 15 sono in semifinale credo che sia l'unica squadra assolutamente a fare un risultato del genere e adesso vediamo vediamo come andranno queste semifinali saranno tutte partite difficili anche per la Juventus primavera femminile perché comunque anche se giocano molte ragazze giovani che però sono già di prima squadra insomma l'Inter femminile e il Verona femminile sono comunque squadre toste così com'è tosta la Res Roma ma io continuo a aver paura della Res Roma e della Fiorentina anche più della Res Roma però perché comunque quando vinci tre campionati primavera consecutive vuol dire che hai un'ottima squadra però ovviamente staremo a vedere credo in questo gruppo credo in queste ragazze e credo in tutto il settore giovanile bianconero perché oggettivamente quest'anno credo che si sia raggiunto il come posso dire il massimo il massimo quindi poi ovviamente a fine anno trarremo le somme anche sul settore giovanile farò un bel video su questo però faccio i complimenti alle ragazze di Mr. Diana dunque che arrivano in semifinale ovviamente semifinali che vi racconterò come sempre come al solito come ogni post partita di tutto il settore giovanile quindi Under 17, Under 16, Under 15 primavera e primavera femminile sarò qui a raccontarvi post partita e cercherò di non perdere assolutamente nulla perché è la mia passione la Juve è la mia passione e quindi mi fa piacere fare questi video ragazzi io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video mi raccomando restate collegati perché tutti i video sul settore giovanile li trovate qui su Forerosa TV ciao